stelle per una notte organizzato dal pub anticaroma di castellana che ospiterà ogni venerdì una gara di karaoke il cui vincitori potranno partecipare alla serata finale del 17 settembre che sarà la del nostro migrante e il cui vincitore poi finale potrà partecipare ad un'esibizione con noi stelle di cuto in un'altra occasione un altro concetto sembra complicato ma è molto più semplice in realtà comunque trovate tutto quanto sulla pagina facebook del pub anticaroma di castellana e noi vi aspettiamo e vi salutiamo tutti ciao che ci gira intorno noi siamo figli delle stelle non ci fermeremo mai per niente al mondo noi siamo figli delle stelle non ci fermeremo mai per niente al mondo